Per il ciclo tre domande a della rubrica facebook appunti di oggi intervisto carlo papetti direttore scientifico del circolo micologico carini di brescia membro del comitato scientifico dell'associazione presa ad ora di trento membro editoriale di rivista di micologia funghi dintorni e bollettino del circolo micologico carini è autore di numerosi articoli su varie riviste micologiche è autore anche coautore di introduzione allo studio dei funghi dell'atlante fotografico dei funghi d'italia e funghi della città di brescia è docente ai corsi di formazione di base sulla micologia sui tartufi per il conseguimento del tesserino per la provincia di brescia conferenziere per la divulgazione della cultura e della salvaguardia del patrimonio micologico italiano è autore anche di nuovi taxa per la scienza di nuove combinazioni e di nuove tipificazioni eccomi ciao carlo ci vediamo allora per la nostra intervista allora il circolo carini di brescia di cui tu sei responsabile per la commissione scientifica ha pubblicato nel 2015 un magnifico testo fotografico e divulgativo che si intitola i funghi della città di brescia che riporta circa 400 specie fungine determinate svariate prime segnalazioni per il territorio bresciano ed anche una nuova specie in oci betilie in circa 13 anni di osservazioni e di raccolte sistematiche nei luoghi urbani è un libro bellissimo pieno di ottime fotografie molto corposo che ho qua tra le mie mani tra l'altro e quindi mi lasceva spontanea questa domanda come è nata l'idea di una raccolta di identificazioni cittadine perché quando la stagione fungina tradizionale quella diciamo che si svolge nei boschi chiude perché le temperature si fanno troppo rigide quindi nel bosco non trovi più nulla abbiamo cominciato a guardarci attorno in città e abbiamo visto che a causa delle delle temperature un po più elevate quei due tre gradi sufficienti per non andare sotto zero per esempio che la città offre con effetti devastanti per altri aspetti ma buoni per la crescita dei funghi qui la la stagione si protraeva per un'altra quindicina di giorni almeno 15 giorni il che significa che nei parchi cittadini e lungo i viari alberati noi abbiamo cominciato a individuare funghi in primis è stato maurizio chiari che ha cominciato a a censire diciamo le specie che trovava dopodiché visto che erano una una quantità cospicua e soprattutto si trattava di specie molto interessanti qualcuno anche molto rara quindi vi ha contagiato vi ha contagiato tutti insomma si ha tirati ci ha tirati sotto come si suol dire e abbiamo cominciato a organizzarci a rendere la cosa in maniera un po più sistematica e questa ricerca si è protratta per una dozzina 13 anni arrivare al 2015 ma sta andando avanti ancora anche adesso finché abbiamo deciso di riunire tutte le nostre raccolte in questa produzione particolare che è stata fatta come omaggio ai soci nel 2015 tutti gli iscritti del 2015 hanno ricevuto questo libro di circa 400 pagine 428 mi pare tu ce l'hai sott'occhio io no sì 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 guarda è un libro corposissimo 432 per la precisione ecco vedi addirittura io ero più buono facevo 428 uno sconto esatto dove abbiamo riunito tutte le raccolte che avevamo fatto di specie raccolte determinate quelle raccolte in realtà sono molte di più perché ce ne sono tante che sono subiudice sono la fra fra quelle indecise che non sei sicuro se attribuirla una specie più che un'altra e la cosa più interessante in assoluto riguardo questa esperienza è stata incontrare addirittura una specie nuova alla quale tu hai già accennato una specie nuova mai segnalata al mondo che non è inclusa nel libro per la verità ma è stata pubblicata immediatamente dopo l'uscita del libro su rivista di micologia ed è l'inocibe tiglie mentre sul libro c'è già inocibe urbana che è un'altra specie che porta comunque il mio nome per per una questione però di aggiustamento nomenclaturale era una specie già conosciuta già censita in italia viceversa i nocibe tiglie è una specie nuova per il mondo proprio ed è una specie raccolta poco poco più avanti verso il centro di brescia in viale duca degli abruzzi dopo dopo il copernico per capirci sotto questi tigli che ci hanno regalato una quantità assolutamente inaspettata di specie anche molto belle e funghi anche molto belli e quindi coronare il tutto con una pubblicazione di un libro ci è sembrato il sistema migliore anche per spendere quel micro gruzzolo che ci eravamo accantonati come come associazione nel corso di anni 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 di di corsi di lavori e così via e il modo migliore per significarlo era di spenderli in maniera scientifica e questo è stato fatto e il risultato è veramente magnifico è un'opera magnifica un dono proprio prezioso che avete fatto a tutti i soci ma comunque anche tutta la realtà cittadina ecco la realtà cittadina la realtà cittadina se lo deve pagare però è un piccolo contributo è sì perché perché noi siamo siamo stati cioè ci siamo impegnati è una spesa enorme cioè produrre un libro a colori di 432 pagine prodotto in tiratura importante ha tirato 1500 copie indubbiamente c'è da dire che c'è stato un piccolo contributo da parte del comune sotto forma di acquisto di copie cioè il comune ci ha acquistato 100 copie che ha poi distribuito non so a chi e come sarà sicuramente a livello istituzionale però l'opera è veramente importante veramente meritorio un lavoro meritorio ha ricevuto ha ricevuto anche numerosi consensi diciamo da tutto l'ambiente scientifico europeo ma addirittura anche mondiale perché qualche qualche riscontro ce l'abbiamo anche dall'america bellissimo veramente un bel contributo ecco ti volevo chiedere anche rispetto a questo proprio i contenuti della determinazione del libro la classificazione dei funghi a causa dell'approccio molecolare sta subendo una radicale risistemazione e che ricaduta a questa cosa nel mondo della micologia e degli appassionati dei funghi nel corso tutti gli anni praticamente il circolo carini realizza un corso e tu in prima persona viene proposto alla cittadinanza quindi volevo sapere sei riuscito a inserire questo approccio questo nuovo approccio sistematico all'interno della divulgazione e bisogna chiarirci molto bene questo è un tasto dolente e anche molto delicato allora nella divulgazione il molecolare non può entrare neanche neanche di striscio è una è una parte della micologia assolutamente da seguire e imprescindibile per per chi fa micologia ma per il raccoglitore per il conoscitore di funghi della domenica per capirci per l'appassionato normale per per capirci non il lo studioso di funghi diciamo che lo lambisce in maniera molto molto marginale l'unica l'unica cosa che si riscontra è che i nomi cambiano purtroppo e dico purtroppo per quale motivo perché assisteremo nel corso dei prossimi dei prossimi anni a uno sdoppiamento della micologia cioè ci sarà la micologia tradizionale quella che tu puoi permetterti di fare e di spiegare a una mostra un incontro anche a un'escursione divulgativa fatta con con la gente e una micologia più diciamo attidente probabilmente a quello che è il disegno al il disegno della natura ma che non è riscontrabile molto spesso dal punto di vista morfo cromatico quindi attraverso l'osservazione dei caratteri morfologici organolettici e cromatici tu non puoi distinguere determinate specie che il dna invece riesce a distinguere ora qui si aprirebbe un discorso che non finisce mai primo io ti ho detto distinguere specie ma chi ti dice che la differenza nel dna di x cose costituisce una differenza di specie e non è una differenza di varietà per esempio o addirittura al contrario non è una differenza di genere addirittura purtroppo questi sono sono ambiti nei quali bisognerebbe prima avere le idee molto chiare mettere molto chiaro il concetto di specie cosa che non è mai stata realizzata neanche prima dell'avvento delle tecniche molecolari e quindi si si annaspa ognuno interpreta a suo modo si stanno facendo pubblicazioni a non finire in maniera spesso e volentieri pretestuosa molto pretestuosa e con l'unico risultato dello sconvolgimento dei 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 nomi ora la la tendenza del dell'appassionato un po più addentro è quella di allinearsi subito al nome nuovo benissimo invece di chiamare che ne so clitocibe costata oppure clitocibe clavipes ecco questa per esempio è una specie che è stata col molecolare addirittura non spostata di rango di specie ma addirittura spostata di genere si è creato un genere ad hoc per per questa specie che sarebbe ampullo clitocibe bene ora io espongo ampullo clitocibe a una mostra si avvicina un una persona del pubblico che giustamente ti chiede perché questo fungo si chiama ampullo clitocibe e tu dici a perché lo dice il molecolare quindi non gli hai detto assolutamente nulla perché tu gli devi spiegare per quale motivo ma chi è in grado di spiegare cioè ci vogliono persone che hanno la conoscenza del del problema e comunque quando stiamo a parlare di molecolare non è che gli puoi dire vedi le lamelle sono rosse invece che essere blu oppure il cappello è conico invece che essere convesso stiamo parlando di una serie di lettere che sono messe in sequenza e che certo tu mi fai vedere che queste lettere in questo settore sono diverse tra l'una e l'altra delle sequenze che tu stai analizzando ma una spiegazione c'è no non c'è assolutamente ce l'hanno eventualmente gli addetti al mestiere ma stiamo parlando di biologi di gente che ha una conoscenza non soltanto diciamo marginale della dell'aspetto micologico quindi a mio parere ma credo che che saremo obbligati a fare una cosa di questo genere tu sai che è ampullo clitocibe perché il dna stabilisce che è diverso da clitocibe ma dal momento che non lo puoi assolutamente spiegare tu esponilo come clitocibe clavipes perché quella la puoi spiegare puoi far vedere che ha tutti i caratteri delle clitocibe le lamelle decorrenti il una certa carnosità una certa consistenza piuttosto tenace elastica tutti i caratteri che rientrano nella definizione standard del genere clitocibe ora il dna dice che no questa rispetto alle altre ha una differenza anche rimarchevole per cui facciamo un genere nuovo e perché non un sottogenere nuovo anche questa poteva essere una strada no poteva essere lo era di sicuro una strada e probabilmente ti dico subito per quale motivo non si fa il sottogenere se tu fai sottogenere quel fungo si chiamerà ancora clitocibe eventualmente puoi specificare sottogenere ampullo clitocibe ma non ci metti il tuo nome mentre se tu fai ampullo clitocibe clavipes dietro al nome del primo che l'aveva descritta che probabilmente l'avrà chiamata agaricus clavipes come quasi tutti i funghi lamellati ci devi mettere il nome di chi l'ha spostata nel genere clitocibe e oggi ci metti il nome di chi l'ha spostata nel genere ampullo clitocibe ora io che sono che sono un micologo di vecchia di di vecchia data e legato anche pur essendo molto calato nella modernità molto legato però alle all'aspetto tradizionale della della scienza dico che è un esercizio molto 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 discutibile perché siccome il limite come ti dicevo prima tra una specie il concetto di specie non ce l'abbiamo il concetto di genere arbitrario non ce l'abbiamo è costituito da una descrizione la descrizione cosa sarà una sequenza di dna certo dal punto di vista tecnico scientifico a un riscontro dal punto di vista oggettivo cioè io cosa posso capire cosa posso differenziare da questo nulla allora ti ripeto avremo due micologie una la micologia degli appassionati che si avvarà di nomi ben consolidati e un'altra che sarà seguita solo da da le poche decine di esperti che potranno anche seguire diciamo il nuovo il nuovo standard sulla 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 sul molecolare però questo standard sul molecolare che sia ben chiaro è tutt'altro che sicuro cioè non è affatto vero che noi col molecolare possiamo stabilire trovare di tutto e di più perché non è che tu fai l'analisi ma la sequenza molecolare e ti viene fuori il nome del fungo è tutt'altro ti faccio degli esempi che ti fanno capire la difficoltà di questo problema ora tu per far fare una sequenza molecolare ovviamente prima devi aver dato un'ipotesi di nome al fungo che vuoi fare sequenziare ti faccio uno degli esempi più classici cortinarius ionoclorus è un cortinario che si presenta in in maniera molto eclatante perché ha il cappello verde le lamelle violette e il gambo giallo però c'è un sosia che morfologicamente è identico salvo che invece di avere le lamelle violette ha le lamelle gialle e questo si chiama cortinarius atrovirens ora agli alborri della della dell'introduzione delle tecniche molecolari i micologi di corsa cosa hanno fatto hanno preso esemplari determinati come atrovirens e determinati come ionoclorus li hanno sequenziati ed è il risultato che sono la stessa cosa poi si è scoperto che avevano sbagliato a monte a dargli il nome perché in realtà sono assolutamente diversi come testimoni al colore delle lamelle che è un carattere di primordine nel genere cortinarius però se tu hai sbagliato e hai avevi in mano uno ionoclorus e lo hai chiamato atrovirens è chiaro che quando fai la sequenza del dna risulta uguale a trovirens grazie era una trovirens avevi sbagliato tu a dargli il nome e su questo ti posso fare decine e decine e decine di esempi cioè non è tutto oro colato quello che esce dal molecolare certo c'è l'errore umano non solo l'errore umano c'è anche che noi questa tecnica la stiamo cominciando a conoscere piano piano adesso e i più avanzati nello studio del del molecolare ci stanno dicendo attenzione perché noi stiamo lavorando soltanto sul picco su un piccolo settore del dna non su tutto il genoma ma su un piccolo settore che è la chiamato lsu ora se tu fai una sequenza dell'su di due funghi che risultano uguali tra di loro non è detto che spostandoti di poco su un altro settore questi risultino ancora uguali può essere benissimo che siano diversi cioè mi spiego due funghi apparentemente diversi tra di loro facciamo un'ipotesi iperbolica assurda uno col cappello rosso a pua blu e l'altro col cappello giallo e senza pua proprio facendo il lsu risultano essere uguali dobbiamo crederci secondo te tu dici cavolo uno al cappello rosso a pua blu l'altro al cappello giallo come fanno essere uguali stai guardando nella zona sbagliata quindi devi cominciare ad aggiungere sequenze di altri settori di altre parti del dna e andare insomma sapremo qualcosa di preciso di sicuro di certo e di inconfutabile solo quando analizzeremo l'intero genoma di una di un di una raccolta di fungo con l'intero genoma di un altro di un altro fungo risultato quale sarà che i costi saranno iperbolici ma al di là dei costi iperbolici alla fine potrebbe essere semplicemente che siccome noi arbitrariamente definiamo qual è la quantità di differenza adesso io sto semplificando molto per capirci qual è la quantità di differenza che fa la specie diversa secondo me questo non è prestabilito è tutto arbitrario cioè un autore dice per me questo basta e avanza per un altro dice no ce ne vuole ben di più e che ne so allora con il genoma umano per esempio che ormai è stato ampiamente studiato e così via tu puoi distinguere gli individui cioè il mio genoma è diverso da quello di mio fratello certo se se mio fratello fosse un assassino e venissero a fare il dna a me e a lui individuano che è lui però siamo fratelli quindi siamo individui molto simili matematicamente certo che apparteniamo alla stessa specie e via di seguito allo stesso genere e tutto quanto quindi stiamo attribuendo un'importanza alla questione del molecolare che è sproporzionata e l'uso che ne viene fatto non è perché uno ricorre al dna che ha capito di cosa sta parlando e a cosa serve uno ricorre fa fare l'analisi oggi l'analisi dell'lsu costa 20 25 euro quindi una cosa una spesa più che affrontabile gli risulta che sono due cose uguali non è mica detto che lo siano perché dovresti scavare di più oppure gli risulta che sono diverse bene ma diverse sufficientemente per essere due specie diverse o sono all'interno della variabilità ammissibile cioè individui diversi come io e mio fratello e il dna risulta leggermente diverso e siamo riconoscibili come individui questo potrebbe anche essere siccome non abbiamo stabilito prima quali sono i limiti della specie stiamo parlando un po' di aria fritta sì forse ci siamo lasciati prendere dall'entusiasmo per questa ma è così sempre è così sempre guarda quando io che la micologia ormai la pratico da una quarantina abbondante di anni quando io mi sono avvicinato alla micologia erano i primi tempi diciamo che la microscopia diventava un aspetto abbordabile anche dal volgo dalla popolazione diciamo normale con una spesa relativamente bassa tu potevi acquistarti un microscopio farti un paio di corsi da qualcuno che ti insegnava come utilizzarlo e via ora a quei tempi la differenza quando tu volevi sostenere che c'erano due funghi diversi uno dall'altro quello dicevi ho fatto la microscopia le spore sono diverse bene oggi ti dico che le spore diverse non significano nulla perché certo se stiamo parlando di spore che ne so verrucose contro spore completamente lisce qualcosa ci sarà ma se stiamo parlando di differenza di micron cioè di differenza di dimensioni stiamo parlando di nulla perché è ampiamente dimostrato che le dimensioni delle spore variano con l'età del fungo con l'imbibizione del fungo con le situazioni che noi non possiamo neanche andare a immaginarci e due specie assoluta anzi due individui della stessa raccolta possono darti discordanze enormi nelle spore quando ai tempi in cui appunto la microscopia vedeva la possibilità di diventare una tecnica popolare si erano ultra esaltati dicevi cavolo questa ha un micron di lunghezza di più quindi è diversa ma colpifero cioè le differenze fra la stessa all'interno della stessa specie possono essere di 3 4 5 micron nonostante stiamo parlando di elementi che sono estremamente piccoli per esempio tu sai che io pratico di più diciamo all'interno della micologia le igroforacee nel genere igroforus le spore tu puoi trovare nella stessa non nella stessa raccolta nella stessa lamella quindi dello stesso individuo puoi trovare una differenza del 35 40 per cento di dimensioni tra le spore che trovi quindi che che valore aveva nulla nulla certo però se mettiamo insieme il risultato del della dell'analisi morfologica dell'analisi organolettica dell'analisi microscopica se hai fatto anche un'analisi chimica meglio di più e se hai fatto anche il molecolare sommi tutto questo e hai dei risultati discordanti è probabile che tu sia sulla strada giusta guai però se tu lo fai solo sulla morfologia guai se lo fai solo sulla microscopia guai se lo fai solo sul molecolare oppure sugli odori sai che un altro dei miei dei miei pallini particolari e l'odore noi gli odori nei funghi sono straordinari qualche volta incredibili e sono spesso e volentieri distintivi però molto significativi e molto significativi però in un giorno che tu trovassi che nasce al clitopilus prunulus che normalmente ha un profumo di farina fresca molto fragrante molto percettibile e facile da 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 individuare tu lo trovassi senza odore è cambiata la specie secondo te ma chissà quali sono le mille cause che potrebbero aver condizionato questo individuo che tu stai annusando e quindi bisogna andarci sempre con i piedi di piombo qualsiasi sia la tecnica più ne usi e più avrai la probabilità di essere vicino alla verità però diventa come ripeto un discorso che che bisogna affrontare a due livelli diversi uno la micologia divulgativa legata a un disegno sistematico comprensibile l'altro quello che potrebbe essere la potrebbe essere la realtà perché credo che la realtà vera e propria ce l'ha solo il creatore che può il buon dio esatto beh questo è un argomento che ci appassionerà ancora per tanti anni credo e ne discuteremo ancora insieme per molto tempo ci sarà un'evoluzione incredibile delle delle tecniche molecolari e se ne capirà sempre di più certo molte molte specie che sono sta specie generi che sono stati creati sono già stati anche smentiti abbondantemente e col molecolare certo e poi le pubblicazioni di questo tipo non sono mica certo pubblicazioni che può fare il gruppo carini o ma anche l'associazione non è bresadola per dire che pure riunisce il fiorfiore della micologia italiana va a finire che sono pubblicazioni accademiche quasi sempre pubblicazioni diciamo che fanno capo a università che senso ha che io alla mostra vado a fare il bravo e uso l'ultimo nome perché quello che ha usato nel su facebook pinco pallino è la cosa più stupida che si può fare se tu chiami clitocibe clavipes o ampullo clitocibe clavipes insisto su questa noi stiamo parlando della stessa cosa questo dobbiamo capire però io sui libri io che spiego alla mostra questa si chiama clitocibe clavipes e gli spiego i caratteri uno va a casa prende il libro sul libro trova clitocibe clavipes saranno tre libri che verranno in futuro che si adegueranno ma non sono quelli divulgativi certo quelli che possono andare insomma se vogliamo insegnare e spiegare i funghi alla gente dobbiamo anche limitare a un esercizio semplice della tassonomia e della nomenclatura che non può includere ma glielo puoi anche mettere tu puoi dire la esponi come clitocibe clavipes e quando uno ti chiede perché è clitocibe clavipes gli dici guarda non è solo clitocibe clavipes con tutta probabilità questo fungo dovresti chiamarlo ampullo clitocibe clavipes perché l'aspetto molecolare lo differenzia dalle clitocibe cosa che come vedi perché gliele metti tutte in fianco una all'altra non è riscontrabile dal punto di vista morfologico e organolettico perché ha tutti i caratteri delle clitocibe ma non il dna pazienza pazienza si chiamerà clitocibe per il volgo e ampullo clitocibe per la scienza e questa potrebbe essere una soluzione transitoria finché non ne capiremo di più sicuramente a livello popolare di sapere popolare per dire a livello di frequentatore occasionale della micologia di sapere qual è il nome giusto diciamo da attribuire a un fungo non dal punto di vista nomenclaturale che quello è importante invece ma dal punto di vista tassonomico nulla nulla tu devi spiegare alla gente perché questo fungo è diverso da quest'altro e allora gli spieghi anche che uno si chiama Piero e l'altro Paolo ma la differenza la fa clavipes non clitocibe o ampullo clitocibe perché quella la fa solo il dna ed è impossibile spiegarla e farla vedere e allora è inutile se no dire credo obbedisco e credo ma non è proprio così che abbiamo imparato le cose le cose le imparano insomma cioè ci sarà una micologia più elementare non è che tu quando vai alle medie che cominci a studiare determinate ma la matematica per dire la fisica e così via è diversa da quella che studia le superiori è solo meno approfondita ma i concetti di base rimangono poi certo andando avanti vai avanti puoi arrivare a fare la quantistica puoi arrivare a fare che ne so la fisica nucleare e che sono lontane pianeti ma le basi sono rimaste quelle che erano e quindi questo dovrà essere anche nella micologia d'accordo sottoscrivo e presenzierò il tuo prossimo corso ascolta ti volevo ancora chiedere una cosa e volevo sapere se avevi voglia di parlarci un po della tua reale attività come micologo e come divulgatore anche di fama internazionale sia sul campo tra le mostre i libri e gli eventi quali sono quelle nuove sfide che ci porta ad esempio il clima la raccolta sul territorio la diffusione che anche la cultura micologica può darci rispetto al futuro cioè quel periodo di tempo che abbiamo davanti come possiamo muoverci in questa direzione purtroppo siamo vittime di eventi che non sono dominabili da noi e che non dipendono se non molto marginalmente dalla micologia ma anche dal potere del singolo individuo vedremo quest'anno nelle zone in cui si è abbattuta la tempesta vaia l'anno scorso quelle che hanno decimato ettari e ettari e ettari di boschi dove non c'è più in piedi un albero e fanno venire veramente il magone a vederli vedremo come reagiscono i funghi perché i simbionti se la pianta è morta dalla quale ricavavano la loro nutrizione c'è poco da fare moriranno anche loro i miceli moriranno e quindi di funghi non ne vedremo più quindi il problema si fa molto grave potrebbe essere per contro che invece i saprotrofi siccome materiale di scarto morto cioè gli alberi caduti, i cascami e così via ce ne sarà in ultra abbondanza quelli possano addirittura svilupparsi di più e presentarsi in numero più copioso ma questa è pura ipotesi buttata lì però stiamo andando incontro alla prima stagione micologica dopo questo evento catastrofico e questo ci darà delle indicazioni credo che non saranno molto diverse da quelle che ti sto dicendo io simbionti decimati saprotrofi probabilmente almeno allo stesso livello di prima se non addirittura migliorati cosa possiamo fare? rispettare i funghi è una cosa fondamentale perché il benessere del bosco tu sai meglio di me è molto correlato alla presenza dei funghi e questo aprirebbe un discorso che è molto lungo e che chi si vuole interessare a questo aspetto deve sì venire a fare il corso di micologia perché lì viene spiegato in maniera elementare ma molto precisa la funzione dei funghi è fondamentale non certo di fronte a queste cose voglio dire l'evento naturale catastrofico la tempesta di questa entità un terremoto e così via dei funghi se ne importa veramente poco purtroppo dove passano, distruggono e basta però è certo che l'uomo se poi è un naturalista e chi è appassionato di funghi lo deve essere naturalista deve interrogarsi su queste cose perché è vero che noi stiamo andando avanti dominati dalla cultura del dio denaro e tutto si deve trasformare in denaro ma i figli dei nostri figli che monto avranno ma solo le ondate di calore che stiamo vivendo in questo periodo che sono assolutamente una novità degli ultimi decenni non sono assolutamente cose che si riscontravano prima soprattutto con questa frequenza sono dovute a un cambiamento nel quale l'uomo non come individuo ma l'uomo come abitante principale diciamo di questo pianeta ha sulla coscienza in grandissima parte e questo tu non te lo puoi negare ora un naturalista che per... adesso faccio delle banalità per capirci un naturalista che non facesse la raccolta differenziata è un naturalista falso è un bugiardo un naturalista che non rispettasse i funghi ma che a spasso nel bosco li rompe è un bugiardo non ha capito assolutamente nulla e non gli va neanche attribuito il titolo di naturalista un naturalista deve assolutamente muoversi per cercare di... qui sì nel singolo di dare prima un esempio e poi il suo piccolo la sua piccola goccia nel mare la deve gettare stupidaggini ma banalità quando la mattina ti lavi i denti tu metti apri il rubinetto bagni lo spazzolino chiudi il rubinetto gli metti il dentifricio ti spazzoli i denti per bene riapri il rubinetto e ti sciacqui questo è un modo corretto un modo di uno che non si pone il problema è quello che ci hanno inculcato che si può fare qualsiasi cosa perché l'acqua c'è bene apri il rubinetto lasci correre l'acqua metti il dentifricio ti spazzoli per un bel minutino intanto l'acqua corre poi ti spazzoli e hai buttato litri, litri e litri d'acqua l'acqua è il bene più grande che noi abbiamo però non abbiamo l'educazione sufficiente per capire queste cosette che sarebbero delle piccole cose che portano avanti milioni, milioni, milioni di benefici io ti volevo chiedere però ancora solo una cosa riguardo a questo i progetti futuri ci sono corsi che penso a settembre si organizzeranno sempre sulla microveloce ci andiamo un po' nel concreto dici tu giustamente allora guarda ti dico le attività le attività divulgative che abbiamo in mente sono si concretizzano soprattutto fra settembre ottobre e novembre e sono sinteticamente il corso di introduzione allo studio dei funghi che prende il via mi pare il 12 o il 13 settembre non mi ricordo al museo di scienze naturali quindi la sede è fissata è fissata sempre al museo al museo di scienze naturali si svolgerà di mercoledì e giovedì se non ricordo male comunque ci si può informare sul sito oppure telefonando al segretario e questo corso si svolge in sei lezioni che sono l'abc per approcciarsi in maniera corretta ha uno studio intelligente dei funghi cioè non solo questo si mangia questo non si mangia perché non è questo che noi insegniamo anzi se uno vuol venire solo per quello stia a casa perché ha sbagliato completamente l'indirizzo non perché non glielo vogliamo dire noi le diciamo queste cose il problema è che non possiamo pensare che attraverso una diapositiva che tu presenti e una descrizione forse anche la migliore del mondo che tu hai fatto puoi aver spiegato un fungo perché il fungo se non ce l'hai in mano e non tocchi con mano la sua consistenza non ne percepisci l'odore non vedi le piccole sfumature che devi percepire tu non potrai mai dare per scontato che lo conosci e siccome qualcuna qualche specie poche per fortuna sono velenose mortali queste bisogna imparare a conoscerle e imparare a conoscere significa prima capire come si impara a conoscere e il corso te lo dice dopo frequentare un po' il gruppo e prima o poi queste specie capitano allora te le faccio vedere a toccare ti faccio vedere che la manita falloides che normalmente è verdognola questa volta l'abbiamo raccolta giallognola questa volta è quasi bianca del tutto questa volta le bande a zilzag che ci sono sul gambo quasi non si vedono questa volta l'anello che deve esserci chissà per quale diamine di motivo il vento è passato uno scoiattolo una lumaca che se l'è mangiato non c'è ma il fungo quello è il velenoso mortale rimane e allora io devo impararle tutte queste cose e queste cose cioè queste accortezze questi trucchi del mestiere il corso te li insegna che sono la base per poter poi leggere un libro di confronto quando tu hai un fungo in mano ma la cosa migliore è sempre quella di affidarsi allo scambio di vedute diciamo con un esperto l'esperto non è chi va a funghi tutti i giorni l'esperto non è chi raccoglie 10 kg di porcini l'esperto è chi ha studiato i funghi cioè 5-6 persone a Brescia per fare dei numeri 200 persone 300 in Italia 3.000 4.000 al mondo anche Carlo anche le mostre in quest'ottica acquistano un significato importante perché durante le mostre c'è la possibilità proprio di vederli dal vivo i funghi quindi osservando tutte le caratteristiche poi ci sono comunque questi appassionati che possono rispondere a delle domande possono dare delle spiegazioni la mostra è uno dei veicoli diciamo promozionali della micologia più efficace purché ovviamente la gente abbia l'umiltà di venire e di chiedere perché spesso e volentieri succede che alla mostra tu hai esposto che ne so facciamo il caso del chiodino metti giù l'armillaria melle l'armillaria ostoie l'armillaria gallica arriva il pinco pallino la gente deve venirci umilmente cioè nel senso che uno che va a vedere una mostra micologica è come andare a vedere una mostra di quadri e pretendere dire che i quadri di Picasso sono brutti tu non li capisci punto i quadri di Picasso sono assolutamente straordinari non sono brutti a te non piacciono un'altra roba le senti dire tante stupidaggini tante volte purtroppo perché l'approccio pur essendo elementare deve essere umile ma questo con qualsiasi con qualsiasi disciplina con qualsiasi disciplina sì certo la supponenza cioè non c'è peggiore non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire no e chi è convinto chi poi non ha la cognizione della propria ignoranza è convinto di sapere tutto e questo è drammatico purtroppo quindi allora abc del corso che faremo da settembre mostre allora mostre abbiamo sicuramente una prima mostra verso la fine di settembre a Pisogna che viene tenuta dalla nostra sezione di Lovere ma si svolge a Pisogna poi avremo la giornata della micologia che mi pare sia il 13 di ottobre se è domenica o il 12 o il 13 di ottobre e questo si festeggia diciamo a livello nazionale in concomitanza noi faremo la mostra che data la sensibilità dei nostri amministratori non sappiamo ancora dove faremo purtroppo ascolta una vena leggermente ironica nella sua mostra ma diciamo diciamo neanche un po' velatamente però proprio molto cioè dovrebbero noi facciamo una un lavoro di prevenzione anche notevole perché se io ti dico questo fungo tu non lo devi mangiare perché è tossico evito alla comunità di pagare i danni del tuo ricovero della tua degenza in ospedale sperando che tu esca poi ancora sulle tue gambe dall'ospedale eppure questa cosa che è fondamentale e in una terra come il Bresciano dove i fonzeri i raccoglitori di funghi sono una miriade gli amministratori dovrebbero capirla e darci un minimo ma non vogliamo soldi non vogliamo contributi uno spazio uno spazio la mia idea era quella che la mostra migliore che tu puoi fare a Brescia non è quella che fai al museo di scienze dove la gente deve partire da casa venirci apposta se è un bel giorno va sul lago se c'è già stata o se hai nipotini ma insomma mille motivi per cui diceva vabbè andrò l'anno prossimo invece se tu la fai in corso a Zanardelli tu coinvolgi mille persone che passano migliaia di persone che ci passano nella giornata che si incuriosiscono che si fermano che ti chiedono e tu hai fatto divulgazione divulgazione che significa anche prevenzione dell'infortunio ed è un infortunio che puoi pagare con la vita non è una stupidaggine la sensibilità purtroppo che manca poi faremo alla fine di ottobre due mostre concomitanti purtroppo avremo questo cioè purtroppo ma anche bene due posti in provincia dove faremo la mostra alla sagra del chiodino di Dello che è ormai una mostra rituale che facciamo da anni e anni e quest'anno per la prima volta anzi ritorniamo a farla non è la prima volta la facevamo tempo addietro ritorniamo a farla a Desenzano del Garda però saranno concomitanti lo stesso giorno quindi noi ci dovremmo sobbarcare uno sforzo notevole perché dovremmo determinare i funghi da una parte e poi determinarli dall'altra fare presenza da una parte e presenza dall'altra quindi tutto il circolo sarà coinvolto in questa operazione ma è un'operazione importante poi ci sono mille altre cose perché per esempio oggi parlavamo con il parco dell'olio che il giorno 20 di ottobre con tutta probabilità faremo una giornata di ricerca e di studio dei funghi del parco dell'olio tu lo sai bene perché ci sei stata in altre occasioni e probabilmente si ripeterà il 20 di ottobre quindi un bioblitz al parco olio nord non so se sarà inserito in bioblitz ma sono stato contattato stamattina appunto per dare la disponibilità o il 20 o il 27 il 27 abbiamo già Dello e Desenzano dico no facciamo il 20 va perché no può essere su tre posti lo stesso giorno è un po' dura guarda è stata veramente piacevole questa chiacchierata con te abbiamo parlato di tante cose anche molto importanti e spero significative che si svilupperanno anche nei prossimi anni io allora ti do un appuntamento alle mostre di quest'anno a cui parteciperemo e spero che le persone che ascoltano e sentono questa intervista abbiano la voglia specie se sono sul territorio bresciano di partecipare anche loro alle nostre attività speriamo proprio speriamo proprio grazie a te per l'interesse e per avermi dato modo di esprimere alcuni dei miei pensieri nell'ambito micologico che dopo la mia famiglia sono la cosa più importante che pratico nella vita che c'è nella tua vita bene allora un grande abbraccio e alla prossima ciao grazie ciao ciao